Io mi rivolsi a Santo Nocito, la buonanima, allora non era ancora suo marito. Mi sozzò, con prestiti su prestiti ad altissimo interesse, mi portò via due arancetti, una fabbrica di cesrato, quattro palazzi, dodici cavalli da corsa e questa villa. Per la gola mi preso. La villa vostra era? Ah, per questo sapevate dove era la cassaforte? È naturale. Dovevo assolutamente riprendermi quelle cambiali per rifarmi una vita. Adesso chiamate pure i carabinieri, fatemi arrestare, non me ne importa più niente. No, se le cose stanno così, non mi pare che sia proprio il caso, è vero Caterina, che ne dici? Voi vi chiamate Carlo? Niscemi, dirri prato. Nobile. Barone. Ah, che cosa romantica. Abbiamo il lagio gentiluomo. Non infieriscala. Non infierire Caterina, ti pregano. Signora Caterina.